Vieni ragazzi, vieni a fermo, via! Dovete stoppare la musica, eh! Pronto? Andiamo, via! 5, no, ne manca uno! Il gioco delle sedi, attenzione! Ristoppare! Ah, merda! 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 Vai, incolliamo una sedia! Dai! Ragazzi, io lo sto bingando adesso, forse trovi! Vai, vai, vai! Dai! Vai, mi ha scambetto così caro! E' marca per le donne! Non è difficile, non è difficile, non è difficile. Ma c'è un ostacolo! Mia, buona scelta Mary! Merda! 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 Mia! 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 è un male? no, c'è un pezzo che ha più di questi scema no, c'è un pezzo vado bene vado già vado già vado 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 grazie bene